Lucio Dei Sauri, quinta corsa, sono solo femmine di tre anni, non vincitrici di 5.000 euro in carriera. Candaun a zero e luci accese. Dallo steccato Diana Sigi, Divina Grimm, Dama Killer Gar, Dolomite VF, Dragula Jet, Dea Alter, Dance in the Dark LJ e Dakota, che completano la prima fila. In seconda fila si avvierà Dea Caf. Cavalli sulla piegata e allineamento che prende forma. Vengono a rete anche l'uno e il quattro, Diana Sigi e Dolomite VF, macchina sul rettilineo opposto per lanciare i concorrenti, Dakota, parte piano, galoppa il sette di Dance in the Dark LJ. Stacca la macchina dall'esterno, Dracula prova a prendere il comando, ci riesce, nei confronti di Divina Grimm al suo interno. All'esterno il quattro di Dolomite VF, poi Diana Sigi, Dama Killer Gar e Dea Alter. E leader Dracula, ora avvicinata all'esterno da Dolomite VF, che chiede il via libera. Crescenzo Maione, passa, meno di 31 per i 400. E nuovo leader Dolomite VF, nuova leader. In seconda posizione quindi il 5 di Dracula, poi Divina Grimm, quindi Diana Sigi. 600 in 46,2 Dolomite, Dracula, Divina Grimm, Diana Sigi, Dea Alter, in una fila quasi indiana, interrotta ora da Diana Sigi, che prova a mettere il nasino in fuori. 800 in 1,2 da parte di Dolomite, che è sempre al comando, nei confronti di Dracula si migliora ora più convintamente Diana Sigi, che a gira Divina Grimm, si trascina Dea Alter, è tornata in gruppo anche Dakota, chilometro della leader in 17,5. Dolomite, Dragula, Diana Sigi, Divina Grimm, Dakota, prova a venire via in terza ruota dal fondo del gruppo. Cavalli al completamento dei tre quarti di miglio, che Dolomite staccando rispetto agli avversari passa in 1,32,9 con 15,3 di frazione. Se la dà gambe Dolomite WF con Crescenzo Maione, lottano alle sue spalle le altre concorrenti. Dakota si lancia all'inseguimento della leader, all'ingresso in retta d'arrivo, Dolomite in vantaggio in seguita da Dakota. Dolomite WF in chiarissimo vantaggio, un vantaggio non colmabile da Dakota, per cui Dolomite WF su Dakota e al terzo Divina Grimm. Io ho 2-2-7 sul mio cronometro, ha vinto Dolomite WF con Crescenzo Maione, i colori di Giuseppe Truppo e il training di Gaetano Somma. Numero 4 sull'otto di Dakota e al terzo il 2 di Divina Grimm. 30 secchi per gli ultimi 4, Dolomite WF ha amministrato molto bene lungo il percorso ottenuto dal Via Libera da Dracula, se l'è data a gambe e ha vinto molto facile su Dakota, che allo speed prende un buon secondo posto sulla regolare Divina Grimm. E' tutto, linea alla regia.